Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in un nuovissimo episodio di The Sims 3, io sono Alessandra Sitesim e se ancora non mi conoscete nell'info box trovate tutti i miei riferimenti per seguirmi sui vari social, Instagram, Facebook, la piattaforma Viola ragazzi dove facciamo le nostre serie principali e tra l'altro ragazzi vi anticipo se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche qui su YouTube perché nelle prossime settimane ci saranno un bel po' di novità sulle quali sto lavorando per voi, non vi spoilerò niente ma diciamo a che fare con il sondaggio che avevo lasciato e lanciato qualche settimana fa, comunque detto ciò ragazzi se non avete visto gli episodi precedenti beh andateli a recuperare perché oggi vi devo aggiornare su un po' di cose, siamo andati un pochettino avanti rispetto a quando ci siamo visti ma non tanto a livello di tempistiche perché poi tutto sommato è passato qualche giorno ma è successo qualcosa ragazzi nella nostra unità familiare ovvero finalmente la nostra Nina è stata perdonata dalla mamma va bene lo vedo che ti dispiace in futuro però cerca di comportarti bene capito? ragazzi in realtà questa cosa è dovuta avvenire soprattutto perché lei doveva andare a scuola molto semplicemente e la mamma non la stava facendo andare tra l'altro le metto incontrano i miei amici e mi è appena uscita anche una opportunità dobbiamo portare un pesce per un miglioramento di voti anche se in realtà abbiamo già 10 ragazzi quindi dovremmo stare abbastanza coperti da questo punto di vista anche Mal sta andando abbastanza bene perché come potete notare è arrivato a 10 anche lui lo metto ad incontrare nuovi amici e non appena ritornerà ragazzi vi faccio vedere appunto Mal nel cast perché in effetti me l'avete chiesto già in un paio di episodi fa e ancora non l'avevamo fatto quindi dobbiamo andare a vedere necessariamente Mal e gli modifico anche un po' il look che poverino non abbiamo non l'abbiamo proprio calcolato tra l'altro tra quattro giorni è passata età ragazzi e in questi quattro giorni voglio approfittarne per cercare questa benedettissima gemma ma in realtà ragazzi a parte che noterete essere aumentato un pochettino anche già l'ammontare di denaro che abbiamo qui nel frattempo giù si sta pulendo le zampine e i zoccoli di Bolt attenzione allora ah ecco qua vi dovevo dire anche quest'altra cosa praticamente Olivi ha insegnato a Mikado a cacciare allora a qualcuno di voi Mikado piace mi fa piacere questa cosa perché veramente ragazzi tutte le razze canine possono imparare a cacciare quindi praticamente adesso ha imparato a cacciare anche Mikado questa cosa ci serve per appunto i cani dotati dell'abilità di caccia possono imparare a trovare a fiuto oggetti da collezione rari e perfino un appuntamento al tuo sim cioè ragazzi io questa cosa scusatemi allora insegniamo un giochino bla 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 no non come faccio a mandarti a cacciare aspettate che forse adesso dovrebbe arrivare a caccia ah ancora un po' manca per addestrare l'accacciare vabbè comunque vi stavo dicendo ragazzi che a livello economico un pochettino la nostra situazione è migliorata perché sì anche dopo avervi richiesto suggerimento ha trovato una gemma ha trovato una gemma partecipa alla maratona artistica presso scuola e radio no se mi premo il nullo sinceramente non partecipo ragazzi scusate mi ha trovato una gemma e la sta andando a ricevere cosa riceverà? cosa riceverà da Skyler Cagnetto Rulo di Tamburi? comunque mi ero venduta il diamante ecco per arrivare al sodo e anche tutto quello che aveva come gemme eccetera oh mio dio florite 432 9 allora ragazzi ho deciso che mi venderò sempre tutto non faccio tagliare più niente perché preferisco avere i soldi ma quando arrivano tipo oro argento eccetera secondo me potrebbe convenire fondere più che altro avevo messo a fondere il palladio probabilmente fatto sta che ragazzi me lo sono venduto ok caccia a livello 2 fantastico e palladio i lingotti di palladio mi hanno dato un sacco di soldi ragazzi quindi io c'è tipo 500 simoleon ciascuno posso mandarlo a cacciare? no ancora no ragazzi comunque mi da sui nervi che Nina deve camminare ancora così nonostante non sia più in punizione però poverina sonno quindi assolutamente ma andiamolo a dormire vai dormi grazie e ragazzi oggi sto per darvi un'altra grandiosa notizia perché allora mai basta innanzitutto domani no aspettate tra due giorni sì domani è il giorno dell'amore però mi sa che non so sinceramente se i ragazzi andranno a scuola secondo me tra 18 ore devono andare a scuola faccio un pochettino riposare Nina però visto che domani è appunto il giorno dell'amore oggi per la vigilia ci prendiamo un po' di tempo per andare al parco tutti insieme e faremo un bel picnic che vi avevo anticipato avremmo fatto visto che appunto Olivier ha due giorni di riposo e soprattutto vuole un pochettino godersi la family ma ragazzi dopo essere andati nel cassa a modificare Mal vi racconto quello che vi dovevo dire perché oggi ci sarà una notizia shock ma guardate che tenero ragazzi ecco Mal tra l'altro vi devo dire la verità assolutamente non capisco per quale motivo i miei figli non assomiglino a nessuno dei genitori Giosi c'è qualcosa che puoi dirci comunque ragazzi questo è Mal prima e a breve vi faccio vedere Mal dopo ok ragazzi allora ecco qui Mal dopo la ristrutturazione che in realtà ha riguardato soltanto i look quindi questo è il suo look quotidiano guardate quanto è carino con il dinosauro poi abbiamo il look formale un po' agé diciamo ma lui è un tipo un po' artistico anche pantofolaio quindi questo pantalone a vita alta da nonno mi sembra che ci sia benissimo con la camicetta no vabbè assurdo siamo uno sfigatello in confronto al padre questo è notturno poi abbiamo abiti sporty e qui assomiglia un pochettino al papà almeno come look costume da bagno e abiti per l'aria aperta guardate che carino ha il di qua ci sono tipo delle matite ma io non ho capito per quale motivo ogni volta tolgo i guanti e me li mette automaticamente non li voglio i guanti non so come dirti comunque esce da qua il dinosauro diciamo che potete confermare che abbia una passione per i dinosauri ed ecco il nostro mal spero che cresca meglio di come è adesso perché ragazzi al momento è osceno e già da adolescente secondo me potrebbe offrirci grandi sorprese anche perché stessa cosa Nina pur era un po' bruttarella da bambina e poi è diventata meravigliosa comunque torniamo subito nella modalità vivi che vi do questa grande sconvolgente notizia ed eccoci qua ragazzi allora a parte che Mikado ha appena portato la sua abilità di caccia a livello 3 ma scusatemi questo che cosa vuol dire può andare a cacciare a destra a cacciare ok che succede? oh mio dio qualcosa è successo hanno rotto qualcosa e tra l'altro ragazzi vi volevo anche avvisare del fatto che se notate delle new entry è perché sì praticamente abbiamo un nuovo uccello abbiamo messo qui mi pare che questo qui era un altro però non lo so abbiamo preso un nuovo scoiattolo e le cose potranno soltanto peggiorare fatti implorare per delle carote arrivo subito piccolo allora ragazzi ma veniamo subito alla notizia del giorno dovete sapere amici e amiche che a grande richiesta da tutti praticamente per l'universo l'universo ci ha risposto l'universo ci ha dato un feedback ci ha detto tu meriti tu meriti di più tu meriti una nuova casa tu meriti di vivere bene e sebbene ormai ci stiamo abituando a questa vita come potete notare tra l'altro guardate che carino ma lo sta dipingendo l'universo ci ha detto tu meriti una nuova casa e per fare ciò affinché tu possa acquistare una nuova casa io ti vado a donare l'uccello mi ha morso io ti vado a donare la morte di un tuo parente un parente di Josie e Olivier è deceduto e ci ha lasciato un'ingente eredità ebbene sì ragazzi adesso vi spiego tutto nel frattempo è stata morsa da un uccello perché aveva nella borsa il cardinale che tra l'altro ragazzi scusatemi ma io me lo vado a vendere perché 115 per me è importante e nel frattempo vado anche a mandare Skyler nuovamente a cacciare caccia una gemma scusatemi ecco qui forse vai a trovare qualcosa in questo caso mi va potrebbe trovare anche un amante assurda questa cosa comunque ragazzi di che cosa parliamo quando parliamo di eredità ebbene sì amici e amiche Josie e Olivier stanno per ricevere un bel po' di soldi ma quanti lo scopriremo perché probabilmente mi sto illudendo per niente ma con i punti vitalizi che abbiamo senza ovviamente barare perché vi ricordo che in questo caso io non utilizzo mod e quindi ci picchiamo quello che abbiamo visto che però ci siamo fatti un popò a tarallo abbiamo la possibilità di ricevere dall'universo ovviamente un'eredità acquista questo premio per ricevere una bella eredità da un parente scomparso da tempo e nel soffrire l'acquisto del premio e la scomparsa del parente è puramente casuale allora ragazzi io adoro tutto vi devo dire la verità avremmo potuto anche diciamo acquistare qualche altra cosa o eventualmente aspettare di trovare qualcosa con l'assistente collezionista di che ne so di consistente ma sinceramente per me va bene così in realtà anzi allevata dai lupi avremmo anche potuto riscuotere aspettate magneto e perisimo non forse poteva andare bene ma come professionista mentalità imprenditoriale aspettate forse vabbè intrattenimento omaggio ma non serviva molto comunque fatemi sapere se vi ricordate di qualche altra cosa che poteva portarci dei soldi fatto sta ragazzi che sinceramente credo che questa sia la cosa più bella anche perché effettivamente sono soldi così cioè regalati ma vi ripeto rimango col dubbio di quanto ci daranno quindi mi sono andata a giocare 30.000 punti vitalizi converrà o non converrà vediamo di scoprirlo subito quindi ragazzi andiamo ad acquistare l'eredità 30.000 oddio manterrà vivo il suo ricordo usa saggiamente quel denaro no ragazzi aiuto e sapete che altra notizia vi posso dare che anche Olivia ha un sacco di punti vitalizi quindi visto che abbiamo scoperto che ne vale la pena io direi che a questo punto ci andiamo a comprare anche un'altra eredità sono morte tante persone in famiglia e questa è una assolutamente una bellissima notizia vado ad acquistare 34 e 4 ma secondo me mi hanno dato diverso a montare sia per lui che per lei non so perché 30.661 e 34.449 da che cosa dipende la differenza questa cosa non la so ma ragazzi oh mio dio abbiamo ricevuto in 2 60.000 sì ma le ho nei più in realtà quindi adesso andiamo finalmente a vedere se possiamo acquistare la nuova casa no vabbè ragazzi vi giuro sto per piangere sto per piangere tra l'altro ecco fatti la doccia grazie prendere in braccio nona oh voleva prendere in braccio nona fallo dov'è nona scusatemi la mia vecchiettina basta abbaiare Mikado sta abbaiando a virgo la sua figlia allora scusami vai ad abbr anzi a prendere in braccio l'animale ok e ragazzi quindi adesso andiamo a vedere subito rullo di tamburi se possiamo acquistare la casa finalmente allora ragazzi voi non avete capito che cosa è successo qualcuno ha preso la mia maledettissima casa in Medina con un fondo familiare di 20.000 non mi fanno vedere se io posso permettermi questa casa o meno quindi sapete benissimo che cosa succederà adesso io li faccio sviaggiare alla velocità della luce tra l'altro sfratta unisci con dividi l'unità familiare beh senza ombra di dubbio sfratta sfratta la casa ma proprio dovete correre lanciatevi oltre la finestra per piacere ragazzi è ufficiale la casa è libera e tra l'altro ce la possiamo permettere oh mio dio io non ci sto credendo vuoi davvero trasferirti qui questa cascina pensata espressamente per i puro sangue è arredata bene potrebbe essere il luogo migliore per allevare i cavalli vanta un'ampia stalla con il suo palco per il fieno una confortevole struttura residenziale con solarium e veranda perimetrale allora ragazzi io direi che assolutamente ci andiamo a vivere ma ovviamente prima di farlo io non posso rischiare che i miei animali non vengano con me quindi devo un attimo sistemare tutto l'ambaradan gli animaletti i cagnolini eccetera eccetera e devo andarli a mettere nell'inventario di famiglia credo che questa sia la cosa migliore da fare non credete ovviamente fatemi sapere voi nei commenti se avete altri suggerimenti visto il trasferimento imminente in tutto ciò volevo rimandare anche Skyler a cacciare per trovare una jam anche perché vi faccio notare che mi ha portato tipo una foglia d'acero che vale sostanzialmente nulla io devo ancora trovare frammenti di carne di diamanti perché esigo di costruire questo cane di diamanti tra l'altro ragazzi allora stiamo per concludere l'episodio di oggi qui perché appunto tante cose vorrei farle al momento del trasferimento magari il picnic lo possiamo fare anche nel nostro nuovo giardino che ne pensate fatemi sapere ovviamente se è sicuro che io mi trasferisca se vado semplicemente così vedete a mettere tutte queste cose qui dentro capite faccio così proprio direttamente ok queste cose che cavolo sono vabbè me le vado a vendere e scusatemi volevo anche dirvi che sì volevo fare un attimo un recap della situazione sull'arca di Noè di Giosi allora noi dovremmo avere due cani due gatti cavalli uccelli lucertole tartarughe il rodito allora abbiamo due cani e due gatti ce li abbiamo poi dobbiamo avere cavalli quindi un altro cavallo ci serve ci serve due uccelli li abbiamo ma della stessa specie no due uccelli li abbiamo lucertole non ce l'abbiamo tartarughe roditori serpenti farfalle scarabèi ecco questo pure dobbiamo darci da fare perché qui abbiamo scoiattolo quindi un roditore un serpente quindi ci serve un altro roditore un altro serpente qui abbiamo cosa cavolo è una tartaruga sì quindi ci serve un'altra tartaruga ah no abbiamo due tartarughe ragazzi già una e due e qui dobbiamo ripopolare perché non ci abbiamo niente quindi potremmo andare a mettere tipo un altro serpente così abbiamo tipo due serpenti appunto e un altro roditore ci serve diciamo che ci servono i doppioni sostanzialmente e invece di scarabèi e farfalle ce ne servono due e due forse siamo vicini all'obiettivo ragazzi che cosa ne pensate ah altra cosa che vi volevo dire sì se vi state chiedendo cos'è questo desiderio ragazzi Josie vuole avere un altro bambino con Olivier e adesso non so se si faranno prendere dal panico dell'eredità e vorranno utilizzare tutti i nuovi beni per creare una nuova vita da capo al 100% ma stiamo andando verso una strada veramente imperbia si vuole far raccontare la favola dal papino no ragazzi scusatemi io adesso vi voglio far notare che questa è la vista di mal mentre abbiamo il papino che ci legge la favola della buonanotte abbiamo anche stracci che non vede l'ora di essere portata in vita quindi stracci io te lo dico un giorno succederà perché noi siamo alla ricerca della Gianmarco Baleno per riportare stracci in vita visto che questo è appunto la fantastica aspirazione un obiettivo opportunità di mal che però in realtà è la mia aspirazione di vita quindi ragazzi detto ciò ci vediamo nel prossimo episodio a questo punto io vi dico che la parola di oggi è trasloco senza sì e senza ma ma ho bisogno urgentemente del vostro parere del vostro consiglio quindi non lo farò prima che mi lasciate i vostri commenti fatemi sapere se posso trasferirmi senza problemi le cose che secondo voi è opportuno che io mi porti da questa casa tipo per esempio anche lo stemma di Nina anche questa la foto con il suo fidanzato che tra l'altro ragazzi non so se avete notato ma non sta frequentando più Josué e questo è perché quando è stata messa in punizione i genitori gli hanno detto che assolutamente non poteva uscire con Josué fino a quando non avrebbe fatto lei il compleanno e il suo compleanno è tra cinque giorni secondo me tra cinque giorni Josué sarà anziano comunque vabbè e vediamo che cosa succederà nelle prossime puntate e quindi appunto queste cose me le porterò sicuramente in casa nuova ma fatemi sapere se secondo voi ha senso quindi la parola di oggi appunto trasloco ci vediamo nel prossimo video se questo vi è piaciuto mi raccomando mettete un pollice in su iscrivetevi al canale soprattutto perché arriveranno tantissimi nuovi video e non soltanto relativi a The Sims 3 ragazzi quindi mi raccomando non perdeteveli seguitemi su Instagram assolutamente e Discord perché lì vi aggiorno sulle mie serie principali novità eccetera eccetera e vi ricordo ragazzi come al solito ve lo dico sempre sulla piattaforma Viola ma ne sto inizando ad approfittare anche qui su YouTube se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente su Twitch quindi vi aspetto per avere accesso alle chat segrete su Discord ma in realtà i Benefit sono tanti altri anche e quindi ci vediamo prestissimo un bacio a tutti e ciao